tracolla bangi modello semplice moschettone metallico parte terminale elasticizzata doppio elastico interno da 6 mm molto solido e resistente regolabile qui si va a regolare l'ampiezza in base al vostro torace poi si fissa sullo stesso passante polimerico cordura molto resistente fa banda larga che non s'appoggia molto bene e non è tagliente si mette a tracolla e in questo caso abbiamo viene portata sempre in questa maniera e il fucile viene agganciato in questo moschettone avendola così sempre avendo l'arma tenendola sotto il braccio e apportata ad uso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti